Allora, ti piace? Sì. Non è proprio modernissima, lo so, però ha un suo fascino. Ma la sai una cosa? Ti amo. Oddio! Ma che fai? Mettimi giù! Tu serio, dimmi com'è. Ti piace? Ti va di fare qualche giochino? Sì, perché no? Che cazzo mi vuoi fare? Sei solo una gran puttana. Ti prego! Ma c'è uno dei problemi. E sua moglie... C'è qualcuno! Mio marito mi vuole ammazzare! C'è qualcuno! C'è qualcuno! C'è qualcuno! La sua moglie! C'è qualcuno! Fai un amato! C'è qualcuno!